Che cosa siete venuti a fare qui? Noi chiediamo il trasferimento periodico intermunicipale di Vigilupani ogni 3 anni per garantire trasparenza e legalità, trasparenza e imparzialità soprattutto nell'esplodamento delle funzioni come garantito e codificato dall'articolo 96 della Costituzione italiana. E che cosa potrebbe succedere invece se le cose rimanessero come sono ora? Se le cose rimanessero così succederebbe come già succede, come gli eventi di cronaca giudiziaria ci tramandano da tempo, ci riportano da tempo che alcune cellule deviate dei Vigili Urbani, dei dipendenti del Corpo di Polizia Municipale e dei dipendenti degli uffici tecnici, soprattutto uffici tecnici comunali, possano in qualche modo accettare di omettere oppure di compiere illegalità, magari facendosi corrompere. E noi questo vogliamo evitarlo assolutamente, soprattutto per salvaguardare quelle che sono la maggior parte dei Vigili Urbani, degli appartenti al Corpo di Polizia Municipale, il glorioso corpo, salvaguardare l'immagine del corpo proprio contro queste piccole cellule deviate che a questo punto con una rotazione intermunicipale ogni tre anni verrebbe sicuramente debellata almeno la possibilità, la tentazione a in qualche modo infrangere leggi in materia di corruzione e concussione. C'è un parere legale da aggiungere? Beh, diciamo più che un parere legale è un parere dettato dall'esperienza, laddove certe situazioni si stabilizzano è possibile il rischio, come richiamava appunto il Presidente, di deviazioni. Quindi il fine principio della pubblica amministrazione dovrebbe servire i cittadini, certamente nel momento in cui non si interviene sotto questo punto di vista, ossia evitare le possibili deviazioni e disfunzioni, ovviamente si viene meno al precetto di cui è l'articolo 97 della Costituzione, secondo cui appunto quest'ultima deve essere orientata nel proprio agire secondo quei tempi di imparzialità e di efficienza. Quando intervengono i soldi, perché quello è il rischio, senza fare tanti g di parole, perché sono uffici che sono ricchi e uffici che sono poveri, bene, quando interviene questo possibile rischio, se il legislatore o i livelli apicali della pubblica amministrazione non intervengono con misure amministrative nell'ambito della propria discrezionalità, atta evitare la deriva del fenomeno, certamente c'è un venire meno al dovere che spetta ogni pubblico amministratore. Come è stata scelta la sede della RAI come luogo della manifestazione? Questo è l'inizio di una serie di proteste, a questo punto di un anno che abbiamo iniziato le nostre richieste, abbiamo incontrato già il vice comandante del Corpo dei Vigili Urbani che a nome del comandante Angelo Giuliani, comandante generale, ha dato la sua disponibilità, ha detto che è un processo, un procedimento che può essere condiviso sicuramente dai vertici e da quel momento è iniziata una richiesta di incontro al sindaco Alemanno, il sindaco Alemanno ha demandato un po' all'assessore, al personale Enrico Cavallari e dopo tanti mesi, inizialmente per un problema mio di salmio di salute, successivamente per altri motivi, comunque siamo arrivati a questo punto e passato circa un anno abbiamo incontrato qualche settimana fa Marcello Marrocco che è il capo di sederia di Antico Cavallari e dell'assessore Cavallari che ha detto che quando riguarda lui bisogna avviare un tavolo di concertazione. Dopo circa due settimane, tre settimane, ancora non abbiamo avuto risposte e purtroppo abbiamo deciso a questo punto che è arrivato il momento di iniziare una serie di azioni eclatanti. Questa è una cosa molto importante perché a questo punto per noi non si può più crescindere da un provvedente di questo tipo che miri a salvaguardare l'immagine dei vigili urbani, degli uffici tecnici comunali ma soprattutto salvaguardi la legalità e l'imparzialità per con il rispetto assoluto dei cittadini romani. Romani, perché noi adesso lo facciamo qui su Roma ma questa è una cosa che dovrebbe essere poi nazionale chiaramente, noi ci mettiamo per la legalità a 360 gradi. La cosa importante è che da oggi in poi comunque, visto che da un anno non è stato attuato ancora questo provvedimento noi come Italia dei diritti considereremo responsabili politicamente a questo punto i componenti dell'attuale giunta capitolina per quanto riguarda qualsiasi caso di corruzione o confusione che venga in qualche modo individuata dall'autorità giudiziaria sia nel settore dei vigili urbani sia nell'apparato appunto degli uffici tecnici comunali. E che cosa succederà se invece non cambierà nulla rispetto alle decisioni attuali dell'amministrazione? Le nostre manifestazioni continueranno, abbiamo già organizzato una petizione che ha già raggiunto 30.000 firme e poi continueremo sicuramente con il nostro gruppo, il gruppo di sostenitori che è anche piuttosto nutrito abbiamo 8.300 sostenitori fino a questo punto, fino a questo momento, perciò c'è una potenza di variativo questo sto dando l'inizio, quando riguarda la RAI, inizieranno altri incatenamenti, i sciopri della fame e tutto ciò che potrà essere utile sempre in maniera pacifica, chiaramente, legale e civile soprattutto ricordiamo che noi facciamo battaglie civili assolutamente legate al principio della non violenza assolutamente, perciò ne mi nel lei, penso che mi confermi qui l'Avvocato Marinelli che è il nostro responsabile regionale per il Lazio, per quanto riguarda l'Italia dei diritti però sicuramente le nostre battaglie, la nostra voce la faremo sentire, ma la nostra voce è soltanto la voce dei cittadini, la voce di coloro i quali vogliono legalità che purtroppo non viene garantita a questo punto dai nostri organi istituzionali, questo ci sentiamo di dire E qual è invece lo scopo e il significato dell'incatenamento? Lo scopo e il significato dell'incatenamento è che in qualche modo noi addirittura arriviamo a violare un po' il nostro corpo per arrivare a ottenere un risultato di questo tipo, perciò vuol dire che ci crediamo ci mettiamo la faccia ma anche il corpo, in questo modo pensiamo di lanciare un messaggio forte ai cittadini che spero che ci seguiranno in questa battaglia civile, una lotta civile ripeto, insisto sempre sull'aggettivo civile perché è quello che è un po' legato al DNA di chi fa parte dell'Italia dei diritti